Gossip Uomini e Donne, Gemma e Giorgio innamorati? La sfuriata inattesa Uomini e Donne Gossip News, Gemma ripensa a Giorgio? La The Filippi sbotta in tv? La love story tra Gemma e Giorgio di Uomini e Donne sembrava ormai definitivamente archiviata In molti credevano che ormai la dama torinese non avrebbe più concesso una seconda sciance al cavaliere toscano, complici le sue affermazioni non proprio carine che avevano offeso molto Gemma, al punto da decidere di chiudere definitivamente questa relazione Ultimissime su Gemma e Giorgio, colpo di scena a Uomini e Donne E così nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne Over abbiamo visto che Gemma Galgani ha provato a voltare pagina e lo ha fatto con Marco, un nuovo cavaliere arrivato in trasmissione apposta per conoscerla e per farle ritrovare il sorriso Le Gossip News che arrivano dal programma rivelano che Marco in parte che è riuscito a fare in modo che Gemma dimenticasse un po' la sua precedente relazione con Giorgio, anche se nel corso dell'ultima puntata che vedremo in onda questa settimana in tv, ci saranno dei nuovi colpi di scena inattesi Possiamo svelarvi, infatti che Giorgio chiederà l'ennesimo confronto a Gemma dopo aver visto i filmati delle esterne al bacio tra la dama torinese e Marco. Una richiesta del tutto inaspettata che ascatenerà non poche polemiche in studio Gli opinionisti di Uomini e Donne, infatti, credevano che di fronte alla richiesta di questo ennesimo confronto da parte di Giorgio, la dama torinese rifiutasse clamorosamente, decidendo così di andare avanti per la sua strada e quindi di approfondire la conoscenza con Marco Maria da Filippi è stufa di Gemma? E invece tutto questo non è accaduto, perché Gemma darà ancora una volta a Giorgio la possibilità di parlarle e di avere questo ennesimo confronto Una decisione che spiazzerà tutti, compreso lo stesso Marco, che non la prenderà affatto bene e che in questo modo si renderà conto del fatto che il sentimento di Gemma nei confronti di Giorgio non è ancora svanito del tutto Insomma si potrebbe dire che tra Gemma e Giorgio non è ancora finita e forse che la dama torinese sia ancora innamorata del suo storico fidanzato toscano che le ha rapito il cuore Ecco perché anche Maria da Filippi si scaglierà duramente nei confronti di Gemma, accusandola di fare sempre cose senza senso, riferendosi proprio alla sua scelta di tornare a parlare con Giorgio su argomenti che ormai sembravano triti e ritriti Anche la conduttrice comincia ad essere stufa di questa perenne indecisioni di Gemma?